Sì, 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 una roba su, però insomma, certamente, andando così, magari arriva a 800 milioni euro. Allora, c'è il papà di Daniele che può dargli una mano, perché loro hanno una cucina, oltre che la pompa di ventina, hanno una piccola cucina, e allora la pompa di ventina può acquistare per lui i pezzi di ricambio col prezzo da officina, in più la fattura è a 60 giorni, e poi qualche qualcosa può fare lui, però lui non è nel cantiere, perciò se ordina il pezzo, e comunque bisogna impiantare, bisogna fare anche il piccino, perniciarlo, perciò ci vuole carruzzere, perciò ci vuole carruzzere, perciò ci vuole carruzzere, perciò ci vuole carruzzere, questo è detto almeno per il mio reggimento, non so, no, sì, ma alla mia destra, la torre è davvero carruzzere, e poi ci vuole carruzzere, perché penso che ha fatto salire mia linea e mia mancia, mia cognata, che l'ha accompagnata a fare la spesa, aveva una macchina che andava a pezzi, aveva i specchietti laterali con lo scotch perciò questa per lui è stata vera è usata solo da una cosa era felicissima